Capitale Italiana della Cultura 2026. Noi abbiamo molte buone ragioni per pensare che la nostra città ha questa sfida potrà realmente vincerla, perché abbiamo una storia millenaria alle spalle, perché abbiamo un grande patrimonio archeologico di rilevanza nazionale, perché abbiamo aperto da poco il nostro teatro storico che presto diventerà un teatro di tradizione, perché il linguaggio visionario di questa città Fellini ha fatto conoscere a tutti in ogni parte del mondo e perché abbiamo un centro storico punteggiato di istituzioni culturali, musei, monumenti in pochi metri quadri che fanno davvero assomigliare questo centro storico a qualcosa di simile a una vera e propria città d'arte. Ecco, chiediamoci chi lo avrebbe mai detto fino a qualche tempo fa di Rimini tutto questo, però noi oggi abbiamo un presente molto importante nel quale forse abbiamo bisogno anche di uno sguardo da fuori, di qualcuno che sappia leggerci e leggere veramente le nostre grandi potenzialità, ma che lo sappia fare con un occhio rigoroso, non con un occhio da tifoso. Abbiamo bisogno di tre direttori artistici, possibilmente giovani, che ci aiutino ad andare in questa direzione insieme a tutte le persone che chiameremo a raccolta nel nostro territorio nei prossimi giorni. Libertà e riminesità sono due fra le parole chiave del nostro progetto. Dette così sembrano due slogan astratti, ma credeteci, si tratta di qualcosa di terribilmente serio dal punto di vista dei contenuti e dei valori. E allora leggeteli bene quei bandi, se ne siete convinti non esitate, candidatevi e fate insieme a noi quest'ultimo tratto di strada entusiasmante che ci condurrà, noi crediamo e speriamo, a vincere nel 2026. Ma avete tempo fino al 2 di aprile.